Ciao, Federico! Ah, ciao, ex! Buonasera! 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 Sì, siamo aasso, siamo aasso, Il Calabice è andato vivenuto per cambiarci, quindi, deve arrivare adesso… Purtroppo mi dice che mi dispiace di non averlo visto. Non è meglio? È già fatto giro? Sì, è fatto giro. Io ho visto anche la scala di pinta. E' questa scala di pinta. Poi, ho fatto giro. Sì, sì, sì. Ho qualcosa di più difficile da fare? Sì, sì. Ho, ho, ho. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. E' stato qui uno dei vostri grandi architetti, da lei manda. Ah, si, davvero, si, si, si. Mi manda uno, purtroppo. Si, si. Perché è la perfettoria della casa. Ah, si, quello della casa. E' veramente. E' vero. So. I don't like. Grazie. Grazie a tutti. 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 . a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. fa parte. a tutti. 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 tu. a tutti. . . a tutti. a tutti. a tutti. . a tutti.